Benvenuti da MB Pastificio, io sono Ines e voglio presentarvi l'arrosto di vitello. La carne è di razza piemontese e viene selezionata da piccoli allevatori non intensivi del territorio. L'arrosto viene rosolato in padella con verdure fresche e erbe aromatiche naturali. Cotto lentamente a bassa temperatura per rendere la carne morbida e delicata. Il sugo viene portato a consistenza senza l'aggiunta di preparati ma semplicemente concentrandolo. Lo potete trovare affettato al banco con il suo preribato sughetto solo più da scaldare delicatamente in padella. Vi auguro buon appetito e vi aspetto in gastronomia! Grazie a tutti!